I social sono impazziti per una clip di Raul, protagonista della recente edizione di Temptation Island. L'ex concorrente ha rotto il silenzio su Carlo. Non si smette di parlare di Raul e Martina, una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2024. I due hanno catalizzato l'attenzione per i litigi e le gelosie scaturite all'interno del reality firmato da Maria De Filippi. E, ancora oggi, a telecamere spente la bionda ristoratrice romana e, l'uomo dagli occhi di ghiaccio, di origini romene continuano a tenere banco sul web. Amore, iniziato circa un anno fa, si sono evolute con la presenza di Carlo, il single che Martina ha conosciuto sull'Isola delle Tentazioni. Dopo settimane di silenzio, spunta un commento del, ex, fidanzato che è tutto un programma. Raul risponde ai commenti dei fan e, affossa, Carlo dopo Temptation Island. Raul e Martina sono sbarcati nel relais Morus di Santa Margherita di Pula in Sardegna per mettere alla prova la loro relazione. La giovane, in particolare, ha lamentato fin da subito l'eccessiva gelosia di Raul, ammettendo di non riuscire a gestirla. Il ragazzo dal canto suo ha dato prova di quanto affermato dalla compagna. Soprattutto quando Martina si è avvicinata al tentatore Carlo. Anche se lui stesso non si è messo di certo da parte nei confronti delle bellissime tentatrici che aveva nel suo villaggio. Le cose sono precipitate e alla fine Raul e Martina hanno deciso di uscire dallo show separatamente. Ma niente, di fatto, è finito. I due sono stati puntati dall'obiettivo del gossip, che sta seguendo ogni loro singola mossa. Sui social, in questi ultimi giorni, sono stati pubblicati alcuni scatti che hanno immortalato Martina e Carlo nello stesso locale, facendo scoppiare la voce che i due stiano insieme. È realmente così? Ma, soprattutto, come se la sta vivendo Raul, ulteriori rumors hanno aggiornato i più curiosi con indiscrezioni che vedrebbero il ragazzo in vacanza in Grecia, in compagnia niente popo di meno che del fratello della sua, ex, fidanzata, in attesa udite udite di lei che dovrebbe raggiungerlo da un momento all'altro. Al momento, però, niente è stato confermato ufficialmente. Raul, tuttavia, ha pensato bene di fare un piccolo regalo ai suoi follower. Il volto noto di Temptation Island 2024, prima si è ripreso con il telefonino mentre si trova in un bellissimo appartamento con piscina e poi ha risposto a molti dei commenti che sono arrivati al margine della clip. Uno in particolare ha attirato l'attenzione dei gossipari incalliti. Un utente, infatti, ha scritto scherzosamente. Raul dietro di te c'era Carlo HHHHH. La replica del diretto interessato non ha tardato ad arrivare e, con altrettanta ironia, l'ex concorrente ha risposto. Chi è Carlo? Non conosco. Ha buoni intenditori. Poche parole.